Innanzitutto è molto bello avere al nostro festival i cantanti da vari stati d'Europa e mondo, uniti con una lingua che tutti capiscono e ci unisce, la musica. In questo mondo così diviso per molte ragioni, noi siamo uniti. Musica è unica lingua che tutti capiscono, indifferentemente dallo stile, tipo, lingua e altre cose. E ci aiuta in qualsiasi momento ad essere felici. È bello misurare se stesso con vari cantanti, sono lieto a vedervi a Opatia.